Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da GT ed oggi siamo qui in ritornati su Fortnite in compagnia delle mie ragazze Salve Per fare una nuova random skin challenge, ovvero quella di Star Wars, dato che sono usciti tre nuovi personaggi di Star Wars su Fortnite Io non ho mai visto Star Wars, ma da quello che mi dice Serena sono particolarmente importanti Tra l'altro anche su Fortnite la chiamano la trilogia originale, amore Eh, tutto è nato dai film con loro tre, quindi Ok, quindi ragazzi direi che dedicare una nuova random skin challenge alle skin di Star Wars ci sta tutta Per continuare il video però ovviamente come al solito vi ricordo di utilizzare il mio codice creatore GGY Tutto grande, tutto attaccato ai negozi oggetti di Fortnite Mi raccomando ragazzule, è davvero fondamentale per supportarmi Quindi controllate sempre che su supporto a un creatore ci sia scritto GGY Tutto grande, tutto attaccato perché ogni due settimane il codice scade e dovete reinserirlo Grazie a quello di cuore a chi lo farà, è davvero fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto Lascia un bel mi piace per altre random skin challenge E le cinque skin scelte per queste random skin challenge sono appunto le tre nuove Più Darth Vader e Obi-Wan Kenobi Che a livello di importanza di personaggi da quanto mi ha raccontato Serena Ci sembrano quelli più corretti da inserire Più di cinque skin mi sembrava un po' esagerato per la random skin challenge E adesso vi dirò cosa dovrò fare a seconda della skin che mi capiterà Darth Vader il più facile di tutti Devo andare dal boss di Darth Vader e posso utilizzare solo e soltanto la sua spada Ovviamente per ucciderlo e per i primi passi della partita no Però una volta che la ottengo posso usare solo quella e le cure E magari qualche oggetto tipo bolla scudo e questa roba qui An solo posso utilizzare soltanto il blaster 11 ovvero l'assalto mitico dedicato a Star Wars Da quello che mi diceva Serena non è proprio l'arma più adatta a lui come personaggio Però a qualcuno dovevo pure affidarlo sto blaster come assalto mitico di Star Wars Con Leia ci siamo regolati in base al fatto che lei è una principessa giusto amore? Cosa? Leila Leila Leila? Eh in italiano mi pare che è Leila Qua c'è scritto Leia Organa Vabbè Vabbè lei Lei Organa Dato che appunto è una principessa andremo all'Araldo Perché l'Araldo insomma la zona dell'Araldo ci sembra un po' un castello Un po' grottesco però va bene Per quanto riguarda Luke ovviamente ragazzi andremo ad utilizzare le sue due spade Le prenderò tutte e due se riesco a trovarle ovviamente E quindi prima che io riesco a trovare le spade posso utilizzare quello che voglio Però l'obiettivo è trovarle il prima possibile Per quanto riguarda Obi-Wan Kenobi è stato un po' difficile La scelta è stata un po' difficile però qui parte uno spoiler ragazzi Quindi saltate questa parte se non volete spoiler di Star Wars Lui è stato il maestro di Darth Vader che si chiama? Anakin Skywalker Anakin Ok ok va bene E l'ha addestrato in un pianeta desertico Quindi io quando starta la partita Se dovesse uscire lui Devo scegliere una città nella parte desertica della mappa E posso lutare solo in quella mappa Solo in quella città lì A livello di armi ovviamente Detto questo spero sia tutto chiaro Andiamo con la randomizzazione Ovvero metto prima il no skin Faccio equipaggio Poi vado nuovamente nella selezione delle skin E vediamo un attimino che cosa capita Oh le Luke Beh vabbè non poteva andare meglio in realtà Quindi solo spade di Luke E poi vediamo ovviamente se esce fuori qualche altra partita Magari se feliamo la prima Ok ragazzi allora andiamo verso Tilted Qui dove abbiamo pingato proprio sotto di me Perché ci dovrebbero essere gli assaltatori imperiali Eccoli qua sì Che dovrebbero avere la spada Allora di sicuro hanno il blaster Però io non posso utilizzarlo il blaster Vediamo se ovviamente hanno anche la spada Però comunque in ogni caso ci dovrebbe essere la cesta Dentro il loro accampamento Quindi tecnicamente Eh loro dovrebbero vendere solo il blaster Però la potresti trovare dalla cesta Eh sì sì no ma nella cesta credo ci sia di sicuro no? Sì ok Tra l'altro ho trovato quella blu E quella verde Ho trovato subito tutte e due Pop Perfetto Prendo anche la finitura rottami ragazzi Tanto chi se ne frega voglio dire Prendo la taglia Eh tieni C'ho anche No c'ho lo shieldone Allora fatti gli shieldini Io mi faccio lo shieldone e poi ho le cura bomba va? Ah ok Sì 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 perfetto Andiamo così Ne uso solo due Ne ho trovato quattro addirittura E andiamo Tra l'altro io dovevo ancora finire le missioni di Star Wars Devo proprio proteggermi dai colpi con le spade Quindi vediamo un po' se lo riusciamo a fare Qualcuno è sceso dalla zip amore Qualcuno è sceso proprio adesso dalla zip Tra l'altro i ragazzi faccio veramente schifo con le spade Ne avrei trovato una anche qui Non mi riesco a muovere ragazzi Con la spada laser Perché ti cambia la visuale E non riesco a regolarmi Ah qui si stanno sparando già di brutto Vediamo se riesco L'hanno laserato questo L'hanno letteralmente laserato Quello sta scappando Stanno scappando tutti e due Questo lo freghiamo così Atterrato Attenzione Vediamo se questo qui Ok Perfetto Brava amore Madonna che infarto Eh mi ha segnato tra l'altro altri passi Questo sta riandando dal compagno C'è il martello dorato questo Parliamone Ah ha già trovato il martello dorato? Oh mio dio Ah sai che faccio? Perché ha tolto più di cinquanta Sai che faccio? Aspetta amore Perché a me mi ha segnato altri passi qui Vediamo un po' Abbatto tutto Distruggo tutto No Ah forse di qua Vediamo di qua Nel frattempo amore Luta tutto tu Eh Niente C'è uno oscillone Ok Eh sì Vai Tanto io potrò portare un sacco di cose Avendo soltanto le spade Possibile Si sono già uccisi tutti Nel frattempo E noi lutavamo di là Ma a me Ecco le cone uno qua No sta dietro la macchina Vabbè Allora Eh sta scappando Se il nemico era la macchina Era un problema Sì Diciamo che poteva essere un problema Allora lui è qua dietro Ma se tipo io facessi così No dalla Sì ok Saltando lo fa Ma questo che cosa sta facendo Sta scappando proprio Guarda sta proprio scappando Allora hanno ucciso il compagno E sta scappando Si è fermato Ma che co Si era proprio firmato Cioè se tipo ha reso della serie No ma io non c'ho niente Non faccio niente Va bene A posto Detto questo Io ogni volta Ogni volta che sparo Prova a ricaricare l'arma Raga mi viene da cliccare quadrato Eh anche a me con il blaster Succede Oh eccolo eccolo Mi proteggo Ok Eh vede che mi proteggo Non mi spara neanche Adesso sta provando a spararmi Ok Eh vabbè raga Unque nelle no build Sono forti le spade Nelle no build sono forti Questo neanche mi stava sparando Vedendomi proteggere insomma Io voglio tirare giù tutto Vediamo Mamma mia raga L'ultimo colpo one shotta praticamente L'ultimo colpo one shotta Anche le strutture Infatti qua abbiamo distrutto anche le Le strutture Amore prendiamo l'area del dirigibile Pusham Ebbene Anche perché comunque Io raga se pusho Uno v uno con la spada Difficilmente lo perdo Eh quindi Pushando magari la taglia Dall'alto Gli facciamo male No di qua Sta andando di qua Il cerchio sta andando verso di qua Certo che però con le taglie È veramente Si spari nel lago Boh raga comunque è un casino Muoversi con il Con il cerchio Del Della taglia Non è lui 100-100 però vabbè No infatti Anche perché sta fuori Ma cosa sta sparando Ma che sta sparando No c'è gente proprio Ok Ah stavano sparando Allo squalo Se la stanno prendendo Con lo squalo bottino Ma neanche se ne sono resi conto Che gli ho ucciso il compagno Ma non mi sparo Oh la spada Non funziona in acqua la spada Non funziona in acqua la spada Mi sta naserando Era la taglia Ma come era la taglia Ma dove era stava Ah ma Era un altro C'era un altro ancora Ma la spada non funziona in acqua Mi ha scammato tantissimo Uso un po' questo Ok Ne stai uccidendo un altro? No 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 Ho finito quelli Ok Allora aspettate un attimo Ragazzi qua c'è la Q-Gun Io non ho fatto la missione della Q-Gun Scusate eh Scusate un attimo Non c'entra nulla con la Con il video di oggi Ma almeno mi faccio un po' la missione Che se no questa qui non l'ho completato mai Allo squalo con la Con l'arma di Star Wars Beh penso di sì eh Ok l'ho fatta Perfetto va bene Ma quante fiocine se l'ha mangiato lo squalo? Non lo so ma guarda che lutte aveva Oh mi sparano Mi sparano e mi hanno anche preso eh Da Dal lago Mi sta a prendere tutto Tra nel pompa viola Allora io uso un po' la spada Quello mi spara da lì Io non posso pusharlo in acqua È in acqua? Sì Ha finito quello che era a terra Uno è dietro Non è in acqua Allora Eh ma io non posso fare nulla ragazzi Eh si sta avvicinando Eh lo so ma io in acqua non gli posso di niente Eh però fai il giro io infatti O lo vado a prendere a picconate E gli faccio vedere chi comanda Ok No sono caduto Sono caduto Amore 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 mi lasera Sono caduto Mi faccio lo scildone Oh mio dio Raga sono proprio scivolato Non io che sto cercando di fare la missione Ok l'ho ucciso da sopra No 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 Capito però va bene Detto questo Che vuol dire stai cercando di fare la missione? Eh quelle lì di Star Wars appunto Fare i danni con le armi di Star Wars Eh vabbè ma il blaster è abbastanza impreciso Infatti vedevo che non lo prendevi praticamente Sì C'è gente dietro qua C'è di nuovo gente a Pinnacoli No come a Pinnacoli Sto andando di qua sentito spari di qua Eh anche a Pinnacoli ci sono spari Eh ma Pinnacoli è fuori safe però eh Io direi di andare verso di qua Che c'è anche il coso poi C'è pure la mongolfiera E possiamo rispostarci rapidamente Mi sento Sempre più forti Sì Eh ma anche a Pinnacoli Mi segna un sacco di spari Ancora te no No a me no Pinnacoli no Ma da un po' non me li segna Ma me ne ha segnati tre Allora Ma questi dove Ragazzi ma si stanno tipo un po' allontanando Cioè mi li segnava più vicino Ma mi si stanno allontanando Forse un team sta scappando dall'altro No spari Allora aspetta Io prendo l'aria della Oh tra l'altro qui ci sono gli NPC con le chest Sparano anche a sinistra Eccole quelli a sinistra sono lì Le ho viste Sì io prendo l'aria Vada lontanissimo Uno l'ho atterrato Sì Allora mi sparano da sotto Ma da dove? Oh mio dio regà Ah beh sto sparando a questi amore Eh ma stanno ovunque A me qualcuno sta sparando Ah da qua sotto dall'acqua E vabbè pusho quelli allora Pusho quelli allora Due atterrati Penso di aver atterrato due dei team diversi Sì sì questi stavano fedando tra loro Ok 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 sto proteggendo Mi sto proteggendo con la spada Almeno faccio anche la missione La cambio Tienilo vivo se riesci No Tienilo vivo Amore mi stanno spaccando Che tieni vivo Non mi stavano sparando Perché stavo proteggendo con la spada Ma come l'ho tolta Mi hanno laserato Ok Come faccio a tenerlo vivo Ci ho provato No sparano Alle spalle questo mi spara Eh mi sono dovuto sparare le cose Comunque stranamente più mirato Senza mirare eh Ma che l'assalto Il blaster Lol Senza mirare ci voglio meglio Allora andiamo a riprendere la mongolfiera Che mi sa che quelli che stanno all'altra parte Sono ancora vivi Eh si sparano 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 ancora Sparano ancora Nell'acqua c'è uno Nell'acqua Eh ma io l'acqua Eh uno dietro Quello lì Questi in acqua con la spada di Di Darth Vader Li avrei potuti prendere Oh mio dio Si è abbinato vai Si infatti l'ho preso Ma mi ha laserato Poco prima di ucciderlo Mi ha laserato C'è gente Oh ma questi sono tre Questi sono tre Oh mio dio E ci sparano pure alle spalle Anche alle spalle Si 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 Allora No 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 Però come faccio a far finire la combo Perché non finisce con la combo Qualcun altro da dietro sta laserando loro invece che noi Non lo so Sembra tipo che stiamo teamando C'è qualcuno dentro il cespuglio comunque mi sa No Dove stanno questi Perché mi segnava a spare anche di qua Un macello raga Cioè stavano tutti qui tipo Ok mi sparano anche da Da crocevia Cioè quando parti con la combo no Che clicchi due volte E poi la deve finire La deve finire Quei due colpi li deve tirare per forza È scomoda sta cosa però Un'altra ancora Sempre un altro Sì È un Jonesy col mantello Il Jonesy Batman Sta scappando È bianco Se ci vuoi provare vai Sì Ok Era da solo One shot Ok Vieni Allora Eh ok Perfetto E boh vabbè A questo punto direi che riprendiamo l'aria Ok Vedo gente qui Che tra l'altro È proprio qua vicino Così possiamo poi riprendere pure l'altra aria Sta correndo Ah sta allutando Mi ha sentito Mi ha sentito Mi ha sentito Mi ha preso quasi Se va giù non lo finire E non ha più sparato E non ha più sparato Va bene Allora Detto questo È andato a terra Però dove sono i compagni? Mi mancano meno di cento di danno Le ho finite tutte Ok No io mi sono ancora carissimo amico Con i danni delle armi di Star Wars Ah c'è gente qua C'è gente qua giù addirittura Madonna Questo è lontanissimo da tutte e da tutti Mi sa che sta camperando Come se non ci fossero domani Guardalo Guardalo C'è gente qua Oh no Sono due Sono due C'è anche una calciatrice C'è anche un lupo dorato Comunque Quando fai la combo Se gli riesci a far entrare tutti i colpi Ti Cioè lo distruggi Eh vabbè Che lui ci ha provato con questo Oddio Ok Però manca Manca il terzo Manca il terzo Era per un'istrata C'era una in strada Non so se era contro Sta tirando le granate Mi sa che è contro No non lo so No hanno tirato a lui le granate Mi sa Non lo so Eh se le ha tirate sotto i piedi Se non è stato lui Guardate Non è stato lui Ok N'ha tirato un'altra Eh ok L'amante delle granate Sì sì Ne aveva un'altra ancora Va bene Oh L'ho finita Madonna Non so Con quale fisica Non sono entrati i colpi Guarda Non gli stanno entrando i colpi Cioè Tipo mi spara Ma non gli entrando i colpi Ecco Quell'altro Quell'altro sì Il pesce è traccato Allora ok Faccio la capriola Faccio la capriola Let's go Abbiamo ucciso Darth Vader Ok Buccia di banana Questo si chiamava Uh Uno Che c'è? Di qua Dove? Sta correndo Ah no no Sono tre Sono tre amore Quattro Ah no è lupo quello lì Quello è bianca Oddio E ho beccato Ok no Perfetto L'ho distrutto Anche la diamantina è bianca Ok infatti è atterrata Mamma mia poverino Questo qua Ah poverino Questo qui Poverino Hai ucciso anche il lupo Ok Ma l'avevo preso con la Q-gun Sì l'avevi riempito Con la Q-gun Ok Ok segna altri spari Verso di qua Ho fatto Quella dei 2000 danni Sto ancora a 2000 danni Devo arrivare a 20.000 Raga Dei danni delle Star Wars Ok ci sono gli ultimi team Di qua Gli ultimi team di qua Prima di finire qualcuno Dovresti fare quelli atterrati E così la stava fatta Eh lo so amore Però qua Già sto gioca solo con le spade E come sbaglio una roba Mi laserano Se sto pure attento Ok 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 sta lì C'è arrivato? Sì l'hai preso L'hai preso È craccatissimo Eh lo so Infatti sta cercando di scappare È scappato Mo mi prova a sparare Poverino Andate a terra Eh qua c'è l'ultimo Ok Che mi sta sparando con il blaster Voraccio Stanno tutti a fare le missioni del blaster Ok Craccato E let's go signori Che partita Madonna Ok a proposito di blaster ragazzi Siamo tornati in lobby Ed effettivamente ci siamo resi conto Che la partita è durata pochissimo Quindi direi di continuare Farne un'altra col blaster Con Han Solo appunto Che è capitato subito dopo la partita Con il buon Luke Ok ragazzi Non so se possa essere più difficile questa in realtà Perché prima avete visto Serena quanta difficoltà ha fatto col blaster Sì tra l'altro almeno con la spada ti puoi parare Eh sì no ma infatti un sacco di volte Mi sono parato con la spada Infatti credo che mi riempirò di bolle scudo Bunkatili E sta roba qui che si utilizza in no build Andiamo comunque a pinnacoli Dato che prima ha portato bene E stavolta compriamo appunto direttamente il blaster Eh da Da Dagli Dai Come si chiamano Sì gli imperatori Li stavo chiamando No Io li chiamo Stormtrooper Gli Stormtrooper Sì questi qua Ma non ci sono Eh sono di qua Hai sbagliato a pillare Oddio 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 Sbagliato No 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 Uno sta atterrando lì Sì No 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 Aspettate Ok raga lo devo far fuori col martello Ok è per forza ragazzi Cioè Ma questo come ha fatto a piantare l'alberello della realtà Guarda Questo lo ho disattivati Non lo so È della taglia È della taglia tra l'altro Eh ma non è Però non era quello che abbiamo ucciso eh No no dico È della taglia Il nome sopra nell'alberello Lo legge è quello della taglia E quindi sarà qua a Pinnacoli O qua sopra addirittura Eh aspetta che io però questi me li apro amore Sì Più che altro dobbiamo stare attenti Se i compagni di questo qua arrivano No ma non li ho riattivati i semi Ah l'hanno riattivati Eh guarda Così a casissimo Ci stanno altri scildini qui amore Oh 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 Mi sparano da sopra Sì da qui Eh sì l'ho visto Ma non so Se è da solo potremmo quasi provarci Eh aspetta Eh no rip Rip Arrivo 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 No sono due Mi stavo a prendere lo scildone io Non so Eh c'è uno nel cespuglio Bello Scendo da te Ok bravissima Io ho altri due scildini Ce li ho ce li ho Ok E sopra erano due comunque alla fine eh E non so a chi stanno sparando Ah no al masso Stanno sparando al masso No hanno laserato gente qua sopra Ok Eh È risalito ok Mamma mia tre ore per farmi sto scildone L'infarti di continuo Ah ok C'è molta più gente rispetto a prima Pinnacoli raga Sì Allora I passi e misegna credo siano quelli sopra Però non so se No no c'è uno qua È la taglia Ok fatto Tra l'altro atterra di nuovo Atterra di nuovo raga Passi 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 È entrato con la spada Mamma mia con che cattiveria È entrato questo qui con la spada Ah c'aveva lo scildone Oh eh sì sì No infatti ora me lo faccio Madonna ragazzi Con che cattiveria Con la spada Direi che nel dubbio Che ne abbiamo quattro Ok Eh infatti Meno male Eh no amore Amore Non entrano No no non entrano Eh perciò ho paura di sì Gli altri giorni siamo morti Perché ci hanno fatto entrare Le granate a onda d'urto Non entravano Poi ci stanno anche i cavi Oh mio dio Stanno rebuttando Eh li hanno sparato infatti Eh sì 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 No ma c'è troppa gente Cioè rispetto a prima Eh madonna Ha fatto prendere un colpo Pure questo Va bene E Non so cosa fare in realtà Perché No non era la taglia Non era la taglia quella Gwen Eh ma c'è di no No non era la taglia quella Gwen Va bene Allora Io proverei a salire Sul dirigibile E stanno Già sta qui sta Eh si stanno a mettere i cosi Non ci credo E l'altro è one shot Quello lì era Era one shot Mi sa Eh c'ha la spada No Ah c'ho l'arma a scarica Mori C'ho il pop a scarico Che sfiga Ed era questo la taglia Eh sì Ma che poi la segnava da un'altra parte Tra l'altro ragazzi Io bostavo Anche nella partita prima È buggato il segnalatore di taglie Va bene Grazie mille Segnalatore di taglie Detto questo raga È stata molto più intensa questa E quella di prima Quindi va bene così Ci sarebbe stata Leila Ma vabbè L'ha utilizzata Seree No non è No non è Quella è Ray Io c'ho Ray Ray ok Ho già messo a imparare i nomi Tra l'altro M'ero confuso un attimo Ho già imparato i nomi Vi ricordo ovviamente Il codice creatore GGY Tutto attaccando Il negozio oggetti di Fortnite Fondamentale per supportarmi Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Lasciate un bel mi piace E lasciatemi dire Un'ultima cosa Probabilmente Se avessi avuto la spada Anche in questa partita Avremmo nuovamente vinto Ma il blaster Fa proprio schifo Sì Cioè son salito A tu per tu Gli ho iniziato a sparare prima Io non entravano i colpi Hai mirato? No non stavo mirando Perché a me mirava più Senza mirare Che con la mira Stavamo dritti per dritti Io miravo dritto per dritto Gli spari andavano a destra A sinistra In alto In basso Veramente Non schifo incredibile Va bene Detto questo ragazzi Prima è tutto Ci troviamo domani Con un prossimo video Qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao